musica weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi parliamo della missione più difficile di questa settimana numero 6 stagione 7 di fortnite parlo ovviamente di cercare gli ignomi ghiacciati in diversi punti della mappa siamo ragazzi come sempre in collaborazione con gli amici di fortnite italy su telegram e ragazzi andate a farci un salto per tutte le news trovate il link in descrizione quindi ragazzi partiamo subito di prepotenza mentre voi lasciate un bel like e vi iscrivete al canale stiamo andando proprio nella posizione del primo gnomo ghiacciato che come vedete si trova molto vicino a borgo allegro con precisione si trova esattamente qua ragazzi vedete siamo vicino alle fabbriche ecco che appaire anche qualche altro giocatore vedete ragazzi eccoci qua e lo gnometto nascosto qua nel cubo di ghiaccio possiamo tranquillamente andare a recuperarlo sperando che non venga chillato dal tizio direi che non lo sta facendo ce lo andiamo a prendere gnomo numero uno preso nella posizione numero due invece ragazzi dobbiamo andare fino ai vichinghi quindi sappiamo tutti dove sono in questa parte di mappa nella parte un pochettino più esterna troveremo il secondo gnomo dentro al cubetto di ghiaccio ragazzi andiamo a recuperarlo insieme come vedete c'è già gente lo stiamo già intravedendo vicino alle rocce eccolo qua proprio sotto di noi ragazzi fantastico gnomo ghiacciato ci avviciniamo di prepotenza oh yes gnomo numero due preso dobbiamo andare invece verso il picco polare per trovare lo gnomo numero tre ragazzi ed è proprio vicino alla torretta esterna al castello insomma il complesso che siamo abituati a vedere che si sta rivelando dal grande blocco di ghiaccio bisogna andare qua ragazzi lo stiamo vedendo non ha senso che vi apra la mappa tanto avete capito benissimo anche voi dov'è scendiamo qua gnomo numero tre preso per lo gnomo numero quattro invece dobbiamo andare verso pinnacoli ragazzi nella montagna proprio quella dove c'è il camper con il quad dietro e come vedete ragazzi lo stiamo già vedendo anche qui non ha senso che vi apra la mappa tanto lo capirete meglio di me di fianco al camper ragazzi c'è lo gnomo numero quattro preso per lo gnomo numero cinque invece ragazzi dobbiamo andare al grande albero quello che c'è tra la città con la slitta e condotti confusi ai piedi dell'albero ragazzi proprio qua nell'angolino troverete lo gnomo numero cinque ve lo faccio vedere in mappa la posizione corretta ragazzi è esattamente questa numero cinque preso un po' più impegnativa invece la posizione dell'ognomo numero sei ragazzi come vedete si trova proprio qua un po' più sotto dei vichinghi ragazzi insomma dove c'è questo boschetto ragazzi dovete avere un occhio abbastanza attento per cercare in mezzo ai pini la posizione esatta che è proprio questa ve la faccio rivedere nella mappa siamo esattamente qua gnomo numero sei preso arriviamo quindi all'ultimo gnomo ragazzi numero sette che si trova proprio sotto alla grotta che tutti conosciamo ragazzi essere presente proprio qua in basso tra il borgo allegro e il frosty flight ragazzi entriamo tranquillamente con il nostro meraviglioso ombrellino nella grotta ok ce la facciamo ragazzi l'ognomo è nascosto qua e quindi completiamo la missione beh ragazzi io vi ricordo a tutti di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao ciao